E' stato ucciso con tre colpi di fucile caricato a pallettoni Fatim Ara, l'impresario edile di 43 anni di origini albanesi, residente a Mati Torino, assassinato tre giorni fa San Carlo Canavese. Prima dell'omicidio potrebbe anche essere stato picchiato. Il corpo dell'uomo era stato ritrovato nel tardo pomeriggio di sabato in un terreno di aperta a Campania, secondo l'autopsia la morte del 43enne, è avvenuta nella mattinata di venerdì, quando l'uomo era stato visto l'ultima volta dopo essere uscito di casa per andare nel cantiere, dove non è mai arrivato. Intanto in queste ore proseguono le indagini, secondo gli investigatori l'uomo potrebbe essere stato attirato in quei campi da una trappola, tesa da un gruppo di persone, che doveva conoscere. L'ipotesi più accreditate è che l'impresario sia stato vittima di un regolamento di conti.